L'ennesima magra figura di cui si sarebbe volentieri fatto a meno. Una comitiva di turisti guidati da un autorevole esponente culturale dell'Arieblea alla presenza di un fotografo danese che sta realizzando un libro sul viaggio negli Iblei ha trovato sprangate le porte del castello di Donna Fugata sabato scorso. Imbarazzante è la scena, tanta incredulità tra i presenti rimasti costernati. A sollevare il polverone annunciando interrogazioni in aula e Mario Dasta, consigliere comunale del PD, che lamenta la totale mancanza di visione strategica da parte dell'aggiunta Piccitto. Avere rivisitato la tassa di soggiorno, dice Dasta, è misura insufficiente se poi col turismo non si vola alto, se poi si trova il sito di Donna Fugata chiuso il sabato mattina. Siamo costernati per questo modo di fare. In questo modo è la città di Ragusa che rimedia magre figure.